Quando è necessario rimuovere totalmente il pancreas, la procedura utilizzata è la pancreasectomia totale. Viene in genere eseguita per lesioni tumorali centrali, in caso di elevato rischio di fistola pancreatica o in caso di ricostruzione vascolare arteriosa. Nella pancreasectomia totale, il pancreas viene interamente asportato, unitamente al duodeno, alla colecisti, a parte del coledoco e alla milsa. Per completare la procedura, la parte rimanente del coledoco e lo stomaco vengono riconnessi all'intestino tenue. In caso di pancreasectomia totale, si verificano tutte le perdite funzionali elencate per la procedura di Whipple e per la pancreasectomia sinistra. Vi sarà la totale perdita delle funzioni pancreatiche endocrine ed esocrine, cioè la mancata produzione di insulina e di enzimi pancreatici digestivi.